Io inizio, sono contento di parlare dopo l'intervento di prima, anche se si parlava di un argomento un po' diverso, questa sessione è dedicata al tema dell'informatica per la disabilità, prima invece si parlava di tutto altro argomento, però secondo me sono uscite fuori delle cose che sono interessanti anche rispetto a questa sessione. Io mi chiamo Alessandro Mazzei, lavoro all'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informatica, sono un ricercatore, dico che sono interessanti perché ho sentito tante parole come la parola bot, i bot sono dappertutto e sono molto collegati a quello di cui sto per parlare, il mio intervento si chiama Macchine Segnanti, è collegato al tema delle disabilità ma è un po' collegato anche al tema delle minoranze linguistiche perché vi parlerò di un progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi 5-6 anni al Dipartimento di Informatica che riguarda la traduzione, in particolare riguarda la traduzione da una lingua che tutti noi parliamo, la lingua italiana, ad una lingua che solo alcuni di noi parlano, che è la lingua italiana dei segni. Attenzione, la lingua italiana dei segni, poi vi dirò qualcosa in più dopo, ma è una lingua, è importante capire che è una lingua a tutti gli effetti, ha una sua linguistica, ha una sua piena dignità. Va bene? Ok, però iniziamo, diciamo, da qualche, facciamo qualche passo prima. Allora, qua il Capitano Kirk sta dicendo Tlingon ma, che, scusate la pronuncia clingoniana, non sono proprio fluente, ma cosa vuol dire? Vuol dire siamo i clingon. Come fa il Capitano Kirk a capire che i clingon stanno arrivando? Beh, se vedete in mano il Capitano Kirk ha una cosa che assomiglia al mio microfono, ma non è un microfono, è il traduttore universale. In tutte le puntate di Star Trek, quando venivano conosciute, venivano incontrate delle nuove razze aliene, immediatamente iniziavano a parlare con il Capitano Kirk. Come facevano? Beh, grazie a quello strumento. Quello che voglio dire è che il sogno della traduzione automatica, beh, Star Trek anni 60, ma parte ancora prima, ma è sempre stato uno dei temi fondamentali della traduzione automatica nel mondo della fantascienza. Vedete che questo è il famoso C3PO di Guerre Stellari. Beh, quando si presenta dice sono fluente, sono un parlante nativo di più di 6 milioni di lingue, è capace di parlare in 6 milioni di lingue. E là vedete sulla destra un altro famoso computer, quello è HAL, il famoso computer HAL 9000, quello di Odissea 2001 nello spazio. Le sue capacità linguistiche, tutti abbiamo visto in questa sala Odissea 2001, ma per chi non l'ha visto vi do un indizio. Le sue capacità linguistiche sono fondamentali per la trama del film. Il sogno della traduzione automatica viene prima della fantascienza che conosciamo oggi. Fondamentalmente nasce già negli anni 30, ci sono due brevetti, uno russo e uno francese, di macchine per tradurre. Attenzione, stiamo parlando del 33. In quegli anni Turing stava iniziando a ipotizzare la macchina di Turing. Von Neumann è ancora lontano, non sappiamo ancora nulla di bit, di transistor e di altre cose del genere. Ma già c'era la meccanica, c'era la pascalina, c'erano i computer non computer, cioè i computer basati sulla meccanica e non sull'elettronica. Beh, già a quell'epoca, quello là che vedete sulla destra è una fotografia dell'epoca della Trojansky machine, che serve per tradurre dal russo all'americano, diciamo all'inglese. Nel 1947, dopo la seconda guerra mondiale, una quantità di soldi smisurata viene data al progetto della traduzione automatica. Perché? Perché siamo nel pieno della guerra fredda e nel pieno della guerra fredda uno dei punti fondamentali era la necessità di tradurre una quantità enorme di documenti dal russo all'inglese, questo soprattutto per gli inglesi, mentre invece per i russi era tradurre dall'inglese al russo. Quindi c'è un grosso interesse verso la traduzione automatica. E nel 1947 vengono dati molto soldi. Nel 1956, un'altra data importante, perché è una data importante? Perché nasce il termine intelligenza artificiale. Al Dartmouth College, la famosa conferenza che viene data nel 1956, nasce per la prima volta questa parola, intelligenza artificiale. Beh, tutti sono d'accordo in quella conferenza che la traduzione automatica è uno dei temi fondamentali della nascente disciplina dell'intelligenza artificiale. Quindi in quel momento si capisce che la traduzione automatica deve essere messa all'interno dell'intelligenza artificiale. Cosa succede nel 1966? Nel 1966 c'è il famoso Alpac Report. Gli americani hanno dato tanti, tanti soldi a questi ricercatori informatici per fargli fare la traduzione automatica. E dopo vent'anni di finanziamenti dicono, va bene, ma quali sono i risultati? C'è una commissione del congresso americano che viene incaricato di vedere a che punto siamo. E' molto famoso questo esempio che gira negli storici della linguistica computazionale in cui gli dicono, va bene, cosa fanno nell'Alpac Report? Provano a vedere come si traduce. Allora cosa fanno? Prendono una frase del Vangelo di Matteo, che in italiano sarebbe, lo spirito è forte ma la carne è debole, che in inglese è, the spirit is willing but the flesh is weak, e provano a tradurla con questi sistemi di traduzione automatica che fanno i ricercatori dell'epoca in russo. Come fanno a sapere se quella traduzione è buona? Beh, provano a fare la cosa inversa, la rimettono in macchina indietro e provano a tradurre dal russo all'inglese. Cosa ottengono? La vodka è forte ma la carne è andata male. Perché? Perché questa è una storia vera. Che cosa succede? Beh, succede che i rubinetti vengono chiusi. Il Alpac Report è un momento drammatico per l'intelligenza artificiale, perché da quella data in poi, per più di vent'anni, vengono chiusi i rubinetti ai ricercatori di linguistica computazionale per fare traduzione automatica. Quindi chiudono i rubinetti, non ci sono più soldi. Ma perché? Perché succede questa cosa così brutta? Beh, perché? Perché tradurre è davvero difficile. Chi di voi ha provato a tradurre da una lingua ad un'altra? Vabbè, oggi abbiamo dei grossi aiuti, ne parlerò tra un certo punto. Ma la traduzione è veramente una cosa difficile. C'è un libro intero di Umberto Eco che si chiama Dire quasi la stessa cosa. Cioè nel senso che parla proprio di come sia difficile la traduzione. È uno dei temi classici della filosofia del linguaggio. La traduzione, che cosa vuol dire? Immaginate cosa vuol dire per esempio tradurre una poesia, oppure che cosa vuol dire tradurre certe parole. Soprattutto i bilingue, questo ce lo dicono, sono intraducibili. Altri invece hanno tanti significati. Quindi è molto difficile. C'è questo filosofo che diceva che se esistiamo per riuscire a tradurre bene dobbiamo avere fondamentalmente una completa e l'essenza e l'intera, il processo della traduzione comprende nella sua essenza l'intero segreto della comprensione e della comunicazione degli esseri umani. Perché ho messo un missile? Perché tradurre in maniera automatica, in maniera perfetta, è come portare l'uomo su Marte. È una cosa davvero difficile. Portare l'uomo su Marte è una cosa molto complicata. C'è bisogno di benzina e c'è bisogno di missili. Quello è il punto fondamentale. Beh, per vent'anni non ci sono soldi, ma ci sono comunque tanti bravi ricercatori di intelligenza artificiale che continuano a portare avanti il loro lavoro. Ci sono altre date importanti, soprattutto attorno agli anni 90. Qualcosa cambia. Cosa cambia? Beh, lo sappiamo tutti. I computer diventano sempre più potenti. Gli algoritmi iniziano a funzionare meglio. E qualcosa si inizia a vedere. Nel 2000, grazie anche alla nascita negli anni 90 del World Wide Web, iniziano i sistemi di traduzione automatica online. Babelfish, qualcuno si ricorda, gli informatici di quegli anni sanno che è stato il primo servizio di Yahoo di traduzione automatica. Nel 2007, Google passa la traduzione automatica di tipo statistico, ve ne parlerò tra un attimo. Però è un momento importante. La qualità del traduttore di Google aumenta improvvisamente. C'è qualcosa di diverso. Hanno scoperto degli algoritmi che funzionano davvero bene. Sono gli algoritmi machine translation statistica. E di qualche mese fa, ottobro 2016, la notizia è che Google ha cambiato di nuovo l'algoritmo di traduzione automatica. Se usate Google Translator ora, e non l'avete usato negli ultimi sei mesi, molto probabilmente vedrete delle differenze. Siamo arrivati alla neural machine translation. Che cos'è? Beh, fondamentalmente, chi di voi ha sentito già parlare della parola deep learning, sa che negli ultimi 3-4 anni, nel mondo dell'intelligenza artificiale, qualcosa è cambiato. Le reti neurali sono tornate ad essere un punto fondamentale. Ebbene, anche Google ora usa delle reti neurali per tradurre dalle lingue. Quello di cui voglio parlare nel tempo che mi rimane, sono due cose. Uno, vi parlerò in generale di quali sono le architetture per fare traduzione automatica. E poi vi dirò alcune cose, quello che facciamo noi al Dipartimento di Informatica, della traduzione tra italiano e lingua dei segni italiani. Quello che, prima di tutto, in che ambito ci muoviamo? Ci muoviamo nell'ambito della linguistica computazionale. Che cos'è la linguistica computazionale? E' semplicemente questa addizione. Prendi gli algoritmi, ci metti dentro le teorie di la linguistica, beh, ottieni la linguistica computazionale. A differenza della linguistica storica, fai girare la macchinetta e succede qualcosa, chiaramente, perché sono degli algoritmi. Quindi possiamo avere degli input e degli output. Però è questa la linguistica computazionale. In particolare, quello che vedete qua è quello che viene chiamato il triangolo di V qua. Il triangolo di V qua, senza entrare in tanti dettagli, però spiega come, da un punto di vista linguistico, gli esseri umani traducono. Noi partiamo da una frase in una certa lingua, l'italiano o l'inglese, va bene? Paolo ama Francesca, vogliamo tradurla in inglese. Cosa facciamo per tradurre Paolo Francesca in inglese? Beh, prima di tutto riconosciamo le parole, riconosciamo quella che i linguisti chiamano la sintassi, chi è il soggetto, chi è il complemento oggetto. E' fondamentale, sappiamo che Paolo è il soggetto e Francesca è il complemento oggetto. Questo ci serve per capire quella che è la semantica della frase. Chi fa cosa? Perché se Paolo è il soggetto e la frase è attiva, è Paolo che sta amando Francesca, che non è la stessa cosa di Francesca che ama Paolo, lo sappiamo, no? Dopodiché abbiamo una... Queste qua, che vedete qua, sono strutture dati, rappresentazioni informatiche, algoritmi di elementi di linguistica. Quindi fondamentalmente la linguistica computazionale cosa fa? Parte da una frase e costruisce delle strutture dati che ne rappresentano la linguistica. Il triangolo di V qua ci dice che noi, quando gli esseri umani traducono, partono dall'italiano scritto, struttura sintattica, struttura semantica, nella lingua italiana, e poi fanno la stessa cosa all'inverso, nella lingua di arrivo. Quindi questa è la struttura semantica, ora muoio, la struttura semantica dell'inglese, questa è la struttura sintattica dell'inglese e alla fine troviamo Paolo Loves Francesca. Quindi troviamo la stessa frase tradotta in un'altra lingua. Allora, cosa ci dice il triangolo di V qua, che era uno studioso di machine translation? Ci dice che per tradurre gli algoritmi possono seguire diverse strade. Allora, se fanno, come diceva prima la ricercatrice, di IBM Cognitive Computing, quindi davvero fanno come gli esseri umani, beh, devono prendere la strada larga, perché la strada lunga è quella che fanno gli esseri umani, va bene? Ma se invece no, non sono davvero cognitivi, basta che funzioni. Beh, possono anche fare come Google, cioè nel senso prendere delle scorciatoie. Non arrivo fino a una rappresentazione di significato davvero. Non parlo di ontologie, come prima è stato detto, ma mi fermo alle parole. Allora si parla di direct. Traduzione direct vuol dire solo parole. Traduzione transfer vuol dire, beh, c'è anche la sintassi, devo sapere anche chi è il soggetto e chi è il complemento oggetto. Allora, invece, che cos'è la traduzione interlingua? Beh, la traduzione interlingua vuol dire che ho una rappresentazione universale del significato. Non dipende più se sto parlando inglese, francese, russo. Il mio significato è talmente in alto che posso tradurre in qualsiasi lingua del mondo. E così gli esseri umani più o meno fanno. Beh, direct è fondamentalmente come funzionavano i primi sistemi di algoritmi, la Trojansky machine di cui vi ho parlato prima. Ma è un algoritmo direct. Prendeva una parola e la traduceva con una specie di mappatura uno a uno. O molti a molti, ma comunque con una mappatura diretta. Beh, non ci crederete, ma alla fine, se analizziamo davvero come funziona Google Translator, in qualche maniera è una traduzione direct. Solo che c'è tanta statistica. Tanta statistica. Perché c'è questa statistica? Beh, perché c'è il web sotto. Quando scrivo il V3C voglio dire che le pagine web parallele, inglese e francese, vengono analizzate da Google per creare queste mappature parola a parola. Quindi alla fine Google può essere pensato come un sistema direct. Se vi ricordate Bubblefish, il primo reo traduttore di machine translation online, beh, non era proprio un sistema direct, ma era un sistema che usava la sintassi. Era basato su un traduttore che si chiama Sistran. Beh, era un sistema intermedio. Non era a basso livello, non era proprio ad alto livello, era un sistema intermedio. I sistemi ad altissimo livello non hanno mai avuto un grosso successo commerciale, perché sono molto difficili da fare, molto difficili da implementare. Questo è un sistema che si chiama Kant e che è stato fatto all'università di Carnegie Mellon. Bene, ora vi parlo invece di quello che stiamo facendo noi. Questo era per farvi capire come è complicato e quali sono i sistemi di traduzione automatica. Noi stiamo facendo due progetti che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. Il primo si chiama Atlas e il secondo si chiama List4All e entrambi riguardano la traduzione di una frase italiana nella lingua dei segni italiani. Ok? Quello che cambia è il dominio. In particolare, Atlas parla di traduzioni del meteo. Quindi le frasi di partenza parleranno di pioggia, di neve, di vento. Mentre invece, nel caso di List4All, i messaggi che vogliamo tradurre riguardano i messaggi ferroviari. Allora, vi dicevo che non so se qua c'è qualche segnante nativo che mi può dare una mano, però se non c'è, vi dovete fidare di me. Vi parlo un po' della lingua italiana dei segni. La lingua italiana è una lingua vera ed è segnata da migliaia di persone in Italia. Ogni Stato ha la sua lingua dei segni. Quindi, se tu sai segnare la lingua italiana, non vuol dire che sai segnare la lingua francese. Sono due lingue completamente diverse. Ogni Stato ha la sua lingua italiana dei segni. A morfologia, sintassi, lessico, a una completa linguistica, non è mimica. Va bene? Non è mimica. C'è una sintassi. Cioè, dove metti la mano? È importante per capire chi è il soggetto e chi è il complemento oggetto. Va bene? Se Paolo ama Francesco oppure Francesca ama Paolo. Spesso le persone non lo capiscono. Dico, ma a che cosa serve la lingua dei segni? Non possono leggere i sottotitoli le persone sorde. La verità è che molti sordi non parlano l'italiano. Non lo riescono neanche a leggere. Va bene? Quindi per loro diventa del tutto inaccessibile il sottotitolo in italiano. È come dire, a noi, invece il sottotitolo russo, arrangiati. E beh, il sottotitolo russo non è molto utile quando devi capire un film in lingua originale, no? hai bisogno invece di una tua lingua che comprendi. Una delle cose più complicate della lingua dei segni è che non puoi scriverla. Non puoi scrivere una lettera nella lingua dei segni. E quindi, beh, gli informatici qua, come si fa a mettere in un file qualcosa che non si può scrivere? Pensateci un attimo. L'unica cosa è filmarla. E infatti, non ci si telefona, ma ci si fa delle video telefonate nella lingua dei segni. Ci sono tante particolarità che rendono il progetto della traduzione da italiano a lingua dei segni molto complicato. Sono due lingue molto diverse. La lingua dei segni italiana è più vicina al giapponese che all'italiano. Per esempio, l'italiano fai soggetto, verbo, oggetto. Paolo ama Francesca. Nella lingua dei segni faresti Paolo, Francesca ama. Per esempio, mamma, bambino, telefona. Telefona, mentre noi diremmo la mamma telefona al bambino. Il verbo sarebbe in mezzo, mentre invece nella lingua dei segni il verbo sta alla fine. Giusto per farvi capire com'è complicato. È molto più complicato che tradurre dall'italiano a russo o dall'italiano all'inglese o dall'inglese all'eschimese. È molto molto difficile. Allora, qual è il punto? Che siccome è così difficile non puoi usare una struttura direct, non puoi usare Google Translator, anche perché quello che manca, come ho scritto là in fondo a destra, sono i testi paralleli. Non c'è il web che non c'è il web della lingua dei segni in cui c'è la pagina in italiano e la sua traduzione in lingua dei segni. Chiaro? Ed è per questo che nel nostro progetto abbiamo deciso di usare una traduzione di tipo interlingua. Quindi nei nostri progetti dobbiamo rappresentare l'intero significato. Il triangolo di V qua che vi ho fatto vedere prima lo dobbiamo percorrere tutto dal basso verso l'alto e poi dall'alto verso il basso. Non ci sono alternative, sono due lingue molto diverse. e quindi dobbiamo far così. Beh, le architetture sia di list for all, queste sono due frasi tipiche che abbiamo tradotto in questi progetti. Oggi, ultimo giorno del mese di giugno con valori di temperatura superiore alla media oppure il treno regionale 10-220 di Trenitalia delle ore 5.35 proveniente da Cuneo arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. Qual è più difficile da tradurre? Questa o questa secondo voi? Destra o sinistra? Chi vota per destra? Chi è che vota per sinistra? La destra era più difficile. Questa qua è più difficile per una serie di motivi. La lingua di sinistra è una lingua molto regolare. Va bene, i messaggi ferroviari si assomigliano tutti, hanno sempre la stessa struttura attiva. Va bene, non ci sono riferimenti. Se vedete invece qua, va bene, qual è il verbo? Dov'è il verbo? Qualcuno l'ha rubato. In questa frase è sottointeso. È chiaro che c'è un verbo, no? Oggi, ultimo giorno, ci sono dei valori di temperatura superiori alla media. C'è il verbo essere, ma è nascosto, per esempio. Beh, per noi è semplice, ma noi parliamo italiano. È chiaro. Mentre invece, se vogliamo fare un sistema di traduzione, è molto più complicato. Allora, questo è molto importante per capire che tipo di architettura bisogna usare. Vi volevo solo far vedere la differenza, questi sono i due progetti, no? Questo qua è per il meteo e questo qua invece è sulla lingua dei sé, sul messaggi ferroviari. Alcune tecnologie sono comuni, va bene? Cioè nel senso che per esempio abbiamo usato delle grammatiche per rappresentare, questa è la grammatica della lingua dei segni, vedete? Domani nuvola aumentare. Vedete? Che in italiano era domani aumenteranno le nuvole. In lingua dei segni si dice domani nuvola aumentare. Quindi si mette subito, la frase di partenza era aumenteranno le nuvole domani, in italiano magari domani lo mettiamo alla fine, mentre invece nella lingua dei segni lo mettono subito. Quindi alcune cose sono in comune ma altre cose sono molto diverse. In particolare la parte di semantica è molto diversa perché mentre nella lingua dei messaggi meteo hai bisogno di una rappresentazione più ricca, hai bisogno di ontologie, prima è stata detta questa parola nella sessione precedente, beh invece nella lingua ferroviaria puoi usare una rappresentazione di significato più semplice, una specie di formulario, vedete quello là sulla destra? Non l'ho inventato io, se vedete quell'indirizzo web che ho messo là, la rete ferroviaria italiana ha un manuale che vi dice come sono fatti i messaggi ferroviari, quello è un messaggio di tipo A2, va bene? Vabbè, comunque ci sono diverse differenze, quello che vedete a sinistra è il segno per Milano Centrale, si fa così, Milano Centrale, ok? Mentre invece quello che vedete dall'altra parte che cos'è? avevamo un problema che alcuni, mentre Milano Centrale è un nome famoso e quindi la lingua dei segni sa segnarlo, no? Re Baudengo Fossata che è una piccola stazione di Torino non ha un nome nella lingua dei segni, come fai? Beh, la vecchia maniera sarebbe stata la digitazione attraverso lettera per lettera, ma provate a digitare Re Baudengo Fossata, quanto tempo ci vuole? Ci mettete parecchio, allora la soluzione che abbiamo ideato e siamo i primi al mondo a fare questa cosa è stata quella di usare il fatto che stiamo lavorando sul digitale, abbiamo un sistema virtuale e allora possiamo far comparire un cartello improvvisamente, no? Quindi nel nostro sistema oltre che un agente virtuale che fa i segni, ogni tanto magicamente può comparire un cartello che può essere riconosciuto se non letto ma riconosciuto da chi parla la lingua dei segni. Chiaro qual è l'idea? Siamo i primi al mondo a fare questo, è un risultato nuovissimo della nostra ricerca. Vabbè, arrivato a questo punto volevo solo farvi vedere velocemente, penso di aver quasi esaurito il mio tempo, però mi sarebbe, mi volevo fare vedere, vediamo se riesco, ok, questo per esempio è una demo della traduzione del sistema da, vedete questo è binario, si vede un po' lento perché ci sono problemi di video, però vedete com'è fatto il sistema, qua hai il messaggio che sta traducendo e là sulla destra c'hai un agente virtuale che sta facendo la traduzione dall'italiano alla lingua dei segni. Queste cose che vedete qua cosa sono? Sono la linguistica della lissa, questo che vedete qua sono le strutture sintattiche e semantiche che rappresentano il significato linguistico di una certa frase. Qua sta dicendo un po' di cose praticamente sta traducendo questa, sta traducendo per la prima volta qua vi faccio vedere solo questo poi basta vedete qua si vede un po' meglio perché ho dovuto catturare lo schermo in cui si vedono bene i segni vedete perché là sembrava che andasse a scatti invece vedete che anche da un punto di vista come posso dire è molto più fluido il movimento è molto naturale è fondamentale che la gente virtuale si chiama donna nel nostro caso sia fluido perché altrimenti viene percepito come una cosa artificiale e non viene creduto quindi il discorso psicologico è importante la qualità del rendering è fondamentale per avere una traduzione credibile quindi il punto è anche questo va bene chiudo velocemente facendo dei ringraziamenti prima di tutto appunto la traduzione automatica è difficile come andare su Marte beh costruire un programma vuol dire costruire sia il razzo gli algoritmi ma anche le basi di dati cioè quelle conoscenze che ci servono per fare la benzina perché senza quelle conoscenze se non conosci il significato beh allora il tuo razzo non riesci a partire volevo ringraziare Turing che forse qualcuno di voi conosce qua dentro perché perché è lui che ha veramente inventato l'informatica per la prima volta volevo ringraziare Noam Chomsky perché perché è lui che ha fatto capire che la linguistica computazionale era una cosa che si poteva fare noi dobbiamo ringraziare lui se oggi abbiamo Google Translator infine volevo ringraziare la fantascienza ovvero volevo ringraziare Roddenberry Lucas e Kubrick perché perché ci hanno fatto sognare delle cose che ora sono vere il traduttore automatico di Star Trek quando eravamo bambini qualcuno di noi era un sogno che ora sembra vero quando aprite la pagina di Google Traduttore perché così siamo arrivati fino ad arrivare là come dicevano in Star Trek dove nessuno è mai giunto prima vi ringrazio per il vostro tempo grazie buongiorno a tutti innanzitutto ringrazio il collega che ci ha spiegato quanto è bello poter parlare in una lingua diversa da quella che tutti noi conosciamo quindi lo ringrazio innanzitutto dunque io mi chiamo Anton Luca sono il delivery manager di un'azienda Leibringer Inc in realtà è un'azienda americana ma è un'azienda italiana nata a Torino dove a Torino ha fatto tutta la sua progettazione e il suo sviluppo di un progetto assolutamente unico a livello mondiale quello di cui vi voglio parlare oggi è un nostro servizio che è un servizio di sicurezza per la persona completamente automatico dove la persona non deve fare assolutamente nulla questo vuol dire che può proteggerci 24 ore su 24 per qualsiasi cosa ci accada si basa su un dispositivo che in questo momento io sto indossando che è un wearable device di un'intelligenza artificiale che elimina quello che sono i falsi positivi quindi interviene solo in caso di sicuro allarme è una centrale operativa che interviene sull'utente nel momento in cui ne ha bisogno quindi andiamo a vedere da che cosa è composto questo servizio questo servizio si basa su un'idea completamente diversa da quella che hanno sempre avuto tutti i wearable device che oggi conosciamo diciamo che oggi ce ne sono circa più di un centinaio di wearable device gestiscono il nostro fitness la nostra salute tutto quello che volete ma purtroppo hanno un limite non fanno nulla da soli ovvero ognuno di noi deve fare qualche cosa perché questo accada noi abbiamo pensato in maniera completamente diversa abbiamo pensato che la persona a cui è successo qualcosa non possa fare nulla ovvero non abbia l'opportunità di chiamare i soccorsi schiacciare un bottone scrollare il telefono per far sì che qualche cosa accada ma deve essere qualche cosa totalmente autonomo quindi se una persona un nostro familiare una persona a noi cara o qualsiasi persona gli accade qualche cosa e facciamo dire facciamo l'esempio della signora Maria classica che è in bagno esce dalla vasca da bagno si inciampa cade e sbatte la testa la signora Maria è svenuta a terra perfetto che cosa succede? che nessuno può intervenire la signora Maria non ha il tempo fisico di schiacciare un bottone su un'app o utilizzare un wearable device che gli dice che fa scattare un allarme sul telefono piuttosto che fa scaturire un allarme verso un suo parente che magari in quel momento ha il problema che il telefono non è raggiungibile il telefono è spento il telefono non funziona e qui dove andiamo a intervenire noi il nostro applicativo fa tutto assolutamente in automatico senza che nessuno debba fare nulla lui riconosce che cosa ci sta succedendo capisce qual è la gravità del fatto e decide che cosa far intervenire quindi si basa su tre componenti importantissimi che sono il wearable device l'intelligenza artificiale e la centrale operativa che interviene in caso di emergenza il wearable device è il cuore in un certo senso perché è la prima parte di tutto l'applicativo è quello che rileva che cosa quello che sono i nostri dati biometrici quindi verifica tramite una serie di sensori e capisce che cosa in questo momento il nostro battito cardiaco la nostra posizione la nostra temperatura il nostro corpo sta trasmettendo verso l'esterno una volta prelevati tutta questa serie di dati e vi faccio presente che il nostro device è l'unico che riceve 200 volte al minuto quindi legge i dati 24 ore su 24 senza mai fermarsi 24 ore su 24 e legge 200 volte al minuto questo vuol dire che noi non interpoliamo i dati come interpoliamo i dati come fa qualche nostro concorrente che gestisce ti dice guarda che il tuo battito cardiaco è circa 70 no non è il nostro modo di lavorare i nostri dati vengono letti da ogni singolo sensore e inviati direttamente alla centrale operativa all'intelligenza artificiale scusatemi questo perché perché nel momento in cui noi andiamo a interpolare i dati come fanno tutti gli altri abbiamo una media statistica ma questa non serve a noi per capire se realmente ci sta succedendo qualcosa a noi serve sapere esattamente in questo momento che cosa ci sta succedendo quindi 200 volte al minuto il nostro wearable device legge tutti i dati li invia all'intelligenza artificiale che comincia a gestirli e a elaborarli e verificare che cosa ci sta succedendo facciamo un esempio la persona che sta correndo un ragazzo 25 anni sta correndo per prendere il pullman perfetto nel momento in cui lui corre sicuramente i suoi battiti cardiaci cominciano ad aumentare ma questo non vuol dire che a quella persona sta succedendo qualcosa non sta succedendo assolutamente nulla a 25 anni sta correndo per prendere il pullman perfetto la nostra intelligenza artificiale lavora su questo quindi sa perfettamente che non gli sta succedendo niente dov'è che va a intervenire l'intelligenza artificiale va a intervenire nel momento in cui invece dice attenzione quella persona ha battiti cardiaci molto elevati ma è ferma ed è una persona anziana di 80 anni ok in quel momento io vado a preoccuparmi di che cosa sta succedendo quindi continuiamo a monitorare i dati verificando se quel dato torna nella modalità normale quindi non ci preoccupiamo nel momento in cui invece quel dato continua a rimanere sopra la soglia per più di un minuto oppure altri sensori intervengono in emergenza facciamo passare il tutto alla centrale operativa che è quella che alla fine andrà ad aiutare la persona che ha questo tipo di esigenza quindi noi dov'è che lavoriamo molto bene sul cuore la nostra intelligenza artificiale è lei che fa la differenza è lei che grazie ai suoi algoritmi decide se quello che ci sta succedendo in questo momento è realmente una cosa pericolosa oppure è solo una cosa di passaggio per il quale non ci dobbiamo preoccupare questo vuol dire che non è di solito come un un sensore che ci serve per controllare il nostro battito cardiaco perché stiamo facendo fitness la nostra non è un'applicazione per il fitness la nostra è un'applicazione anzi è un servizio che serve solo esclusivamente per monitorare e gestire la sicurezza reale della persona in momento di aggressione uno svenimento una rapina il nostro wearable device riesce ad identificare insieme all'intelligenza artificiale che cosa ci sta accadendo in questo momento quindi riesce a discriminare se veramente c'è un pericolo oppure questo pericolo non esiste scoperto che c'è un pericolo facciamo intervenire la centrale operativa la centrale operativa innanzitutto è fatta da persone umane non è una cosa elettronica o generata da un computer ma viene gestita su più di 100 paesi e attiva naturalmente 24 ore su 24 7 giorni su 7 365 giorni l'anno ed interviene direttamente con la persona che in quel momento è sotto allarme come interviene la centrale operativa in primo luogo la centrale operativa ha la possibilità tramite VoIP di provare ad avvisare la persona quindi la persona senza che debba fare nulla quindi torniamo alla signora Maria che è scivolata è caduta per terra ha il telefono a due metri di distanza e non riesce ad arrivare per chiamare i soccorsi perfetto la centrale operativa apre un canale bidirezionale VoIP comincia a parlare con la signora Maria cerca di capire che cosa gli è successo alla signora Maria ed è l'unica certificata che può inviare qualsiasi tipo di soccorso quindi avendo capito che la signora Maria è caduta e si è rotta una gamba gli manderà l'ambulanza direttamente a casa senza che la signora Maria debba fare assolutamente nulla la differenza reale di questo progetto è il fatto che la persona non deve fare niente assolutamente nulla è tutta l'intelligenza artificiale che si accorge che cosa sta succedendo quindi qualsiasi persona può utilizzare questo sistema quelli che ci sono oggi che possono essere fatemi dire esistono una serie di sistemi per la sicurezza dove per esempio dobbiamo aprire un applicativo e schiacciare un bottone oppure dobbiamo scrollare il nostro telefono per far scaturire un allarme sono sistemi che naturalmente funzionano per carità nessuno dice questo ma c'è un'azione da fare e questo presuppone il fatto che comunque di solito è un'applicazione che compro e utilizzo per me stesso il nostro sistema in realtà è nato non solo anzi soprattutto non per noi ma per i nostri cari perché viene gestito in maniera da poter salvaguardare la persona quindi una cosa che noi non compriamo per noi stessi ma magari compriamo per i nostri figli che vanno in giro e vanno la sera vanno a ballare e quant'altro e vogliamo essere sicuri che non gli capiti mai nulla esattamente come i nostri familiari o come tutte quelle persone che sono che fanno lavori magari pericolosi pensate a una persona che succedono purtroppo un sacco di incidenti sul lavoro di persone che quelli che hanno ultimamente sono morti che stavano pulendo le botti all'interno con degli acidi dove purtroppo sappiamo come è andata a finire ecco poter tutelare quelle persone dando loro un allarme prima che questo gli accada e potendo far intervenire i soccorsi immediatamente questo sicuramente probabilmente avrebbe potuto in qualche maniera salvare delle vite quello che noi vogliamo e abbiamo realizzato è un'applicazione e un servizio che fa esattamente questo quindi un'applicazione completamente automatica che può salvaguardare la vita delle persone ed aiutarle nel caso in cui gli accada qualsiasi cosa senza che loro debbano fare nulla questo a grandi linee è il nostro servizio una slide che vi spiega solo come funziona la nostra intelligenza artificiale quindi quello che abbiamo detto quando solo uno dei nostri sensori sente un allarme quindi rileva che qualche cosa non va in quella persona va in pre-alert non fa scaturire naturalmente un allarme immediatamente acquisisce dati da tutti i sensori verifica da tutti quei sensori che cosa sta succedendo verifica se qualche sensore torna a essere nei parametri normali identifica l'insieme il corretto insieme di tutti i dati e se c'è una situazione nota fa scaturire un allarme se questa situazione non si presenta e tutti i dati tornano a un livello accettabile l'allarme decade e quindi non parte nessuna richiesta verso la centrale operativa io dovete scusarmi ma ho sostituito una persona quindi non ero prontissimo davanti a voi ma spero di avervi trasmesso che cosa fa realmente la nostra applicazione e il nostro servizio cerca di aiutare tutte le persone in qualsiasi caso qualsiasi cosa vi debba capitare a essere monitorati ed aiutati senza che voi dobbiate fare nulla grazie di tutto allora mentre lanciamo le mie slide io voglio fare complementi ai due relatori perché comunque sono due lavori interessantissimi che isolano molto da quello di cui vi parlerò io io sono Barbero sono un insegnante al Ballaudi di Fossano comunque parlo a nome dell'associazione Discola che è un'associazione piemontese una rete di scuola per le scuole praticamente e mi hanno invitato qua oggi per presentare appunto questo progetto chiamato Scratch for Disability quindi lasciamo l'ambito della ricerca ancora complementi perché veramente progetti interessantissimi questo progetto invece riguarda la scuola e in particolar modo riguarda la formazione dei docenti ed è rivolto fondamentalmente ai docenti di sostegno ai logopedisti agli educatori cercherò di essere abbastanza breve è un progetto lanciato appunto qualche mese fa da questa rete di scuole chiamata Discola e praticamente parte praticamente ha il compito di introdurre di formare gli insegnanti di sostegno gli educatori i logopedisti sul tema del coding che cos'è il coding penso che chi fa scuola ben o male lo conosce coding vuol dire computer programming in inglese va bene ma nel mondo della scuola ha assunto tutto un altro significato praticamente perché il coding diciamo che è un nuovo tipo di approccio alla didattica praticamente che si pone come scopo quello di introdurre il pensiero computazionale nello studio praticamente in modo tale da poter poi utilizzare questo tipo di ragionamento questo tipo di approccio allo studio nelle materie non solo scientifiche quindi matematica fisica chimica ma anche in altri tipi di materie naturalmente con la creatività e la fantasia sempre come punto di partenza perché il coding a scuola perché appunto l'informatica non è solo quindi l'addestramento all'utilizzo di applicativi ma fondamentalmente l'informatica invece è la trasmissione di concetti di logica che potranno poi essere utili se sviluppati bene appunto in tutte le discipline esistono moltissimi strumenti su tablet su pc robotica educativa eccetera tutti con l'obiettivo di introdurre appunto la logica del pensiero computazionale coniugandola con la creatività coding strumenti ci sono moltissimi si può fare della computer science unplugged quindi non è obbligatore per forza avere un computer io a Barcellona ho conosciuto a un convegno ho conosciuto appunto un ricercatore uno di quelli che ha scritto il codice per scratch fuori Arduino ad esempio siamo ritrovati una volta lo scratch day che è una manifestazione mondiale oggi è lo scratch day ad esempio mondiale e questa mattina noi abbiamo celebrato lo scratch day con un concorso al Majorana a Grugliasco a cui hanno partecipato 92 scuole stamattina abbiamo inventato 15 scuole da tutta Italia per la finale 5 scuole della primaria 5 delle superiori 5 delle medie e a questa competizione proprio per festeggiare lo scratch day quindi si può fare mi diceva appunto che durante uno scratch day avendo avuto 170 ragazzini da gestire non avevano un computer per tutti hanno inventato praticamente hanno creato sapete quel gioco giorno notte in cui si impinano le dita e si apre e si chiude quel giochino di carta un origami molto molto semplice e sono riusciti a fare dell'informatica in questa maniera qua esistono moltissimi testi sulla computer size unplugged dove si possono introdurre concetti di logica computazionale senza utilizzare il computer esiste il programma il futuro che è un programma ministeriale del MIUR il MOOC EMA molto importante noi stessi abbiamo lanciato un programma da tre anni con la fondazione CRT chiamato programma anch'io fondamentalmente noi come discola suggeriamo per fare il coding strumenti come Scratch Scratch Junior e App Inventor perché sono strumenti del MIT e il MIT come sapete ha un centro di ricerca chiamato Media Lab che è molto avanti su questo tema e quindi noi ci affidiamo ai loro strumenti che sono anche gratuiti come funziona il progetto Scratch for Disability allora abbiamo già svolto un seminario nel mese di aprile per gli insegnanti di sostegno educatori logopedisti a cui hanno partecipato 250 persone quindi ha avuto molto molto interesse il nostro obiettivo qual è? a partire da settembre offriamo dei corsi di formazione gratuiti per gli insegnanti di sostegno e operatori sanitari sul tema del coding utilizzando in primis Scratch oppure anche altri strumenti dipendono moltissimo dal tipo di obiettivi che vogliono raggiungere e anche dalla tipologia di diciamo riabilitazione che si vorrà fare quindi offriamo questi corsi a momento attuale sono più di 300 gli insegnanti che si sono appunto iscritti a questi corsi operatori sanitari a settembre abbiamo chiuso le iscrizioni a settembre riapriremo e poi faremo questi corsi visto che Disco ha una diramazione in tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta abbiamo quindi dei punti in cui possiamo offrire questi corsi offriremo questi corsi gratuiti poi una volta fatto questo questa formazione di 6-9 ore vogliamo fare un progetto di ricercazione sia con neopsychiatria infantile sia appunto nelle scuole con i ragazzini con docenti di sostegno che lavorano con i ragazzini disabili oppure con ragazzini con bisogni educativi speciali il tema dell'inclusione è un tema della scuola italiana che sia in positivo che in negativo comunque ha molta molta importanza negli ultimi diciamo 10 anni va bene specialmente negli ultimi 10 anni direi e quindi vogliamo vedere come è possibile utilizzare il coding e in particolare modo scratch rivolgendo studiando applicazioni o un modo di fare didattica in cui ci sia anche il coding come paradigma didattico paradigma educativo praticamente finalità didattica e riabilitative come dicevo al termine dell'esperimento quindi io pensavo noi pensavamo come gruppo il primo quadremessa del prossimo anno con l'università in particolar modo con pedagogia e con scienze della formazione primare di Torino che collaborano con noi volevamo raccogliere le esperienze più significative per realizzare non sembra ancora cosa esattamente comunque fondamentalmente uno o più tesi pubblicazioni di vario tipo e poi al termine appunto un convegno di presentazione del tutto per capire un attimo se il coding può avere anche appunto un senso rivolto appunto alla didattica e alla riabilitazione di persone con questo tipo di problematiche perché scratch fondamentalmente perché è libero non dà alcun problema di funzionamento è molto semplice da imparare utilizzare questa mattina vi dicevo questa giornata dedicata allo scratch day abbiamo avuto dei ragazzini delle elementari che hanno illustrato i loro progetti fatti in scratch era incredibile la sicurezza bambinetti e bambinette di nove anni dimostrata c'erano 350 persone in quell'aula magna del Majorana dimostrata nel presentare i loro progetti e nel far vedere come li hanno sviluppati è stata una cosa micidiale cioè nel senso che comunque una tranquillità prima si parlava appunto di donne nell'informatica c'erano due ragazzine tra le cinque selezionate che veramente mi hanno scioccato mi hanno stupito non eravamo paura che si impantanassero avessero bisogno degli insegnanti per poter proseguire ma che in dieci minuti hanno iniziato giusto nei tempi bravissime quindi è semplice da imparare a usare ottieni i buoni usati in poco tempo è un ambiente di lavoro aperto è versatile quindi puoi fare moltissime cose lascia un ampissimo spazio la creatività degli studenti e degli insegnanti va bene va molto bene è ideale per fare il coding e comunque ci sono anche gli strumenti quindi noi inviteremo anche ad utilizzare anche altri strumenti per iscriversi vi invito ad andare sul sito dell'associazione discola punto it troverete appunto nel menu principale della home page il progetto scratch for disability le iscrizioni sono momentaneamente chiuse per gli insegnanti per i logopedisti o per gli educatori e riapriranno a settembre del 2017 perché dobbiamo anche noi fare un attimo i conti con quante risorse abbiamo quante persone abbiamo da poter fare la cosa io vi ringrazio e lascio la parola alla regia penso grazie mille grazie a tutti 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 grazie a tutti